Entro maggio potrebbe arrivare dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'approvazione del piano regolatore portuale di Pescara. Saranno infatti pronte entro due settimane le integrazioni ai rilievi dell'organismo dello Stato al documento sugli aspetti idraulico-fluviali e sui sistemi antincendio. La tempistica è stata comunicata nel corso della conferenza di servizio promossa dal Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha chiesto a tutti i soggetti coinvolti di cambiare gioco e guadagnare una falcata temporale. Tutte queste riunioni, ha detto, non sono normali, non stiamo costruendo il ponte di Brooklyn. Il piano regolatore del porto di Pescara rappresenta un fatto straordinario, l'occasione per chiudere con l'emergenza e rendere di nuovo il porto completamente fruibile. In questo quadro di necessità il Presidente ha anche chiesto a tutti i soggetti intervenuti, dal Sindaco di Pescara e il Comandante della Direzione Marittima, di configurare una nuova vasca di colmata per il porto di Pescara in una edonea collocazione funzionale che tuteli l'ecosistema. Intanto, dopo la firma del verbale di consegna dei lavori tra il provveditorato alle opere pubbliche Lazio-Molise-Sardegna e la LMDSPA di Malcontenta, è arrivata nel porto di Pescara la squadra per i ridievi batimetrici. Le operazioni di dragaggio sono slittate a lunedì prossimo, il motopontone è già pronto e ormeggiato nel porto di San Benedetto del Tronto.